Contro vapore, siamo in centro a Milano, vicino a Viale Piave, il Portone parla da solo, è un ristorante un pochino particolare, l'ho scoperto qualche anno fa, continua ad andare bene, dentro è Rosso Pompeiano, però noi non ve lo faremo vedere, ve lo racconteremo solo, perché tutte le cose vanno scoperte piano piano.